Mi sembra che ci sia un lavoro sistematico di ricerca e spulciamento dei miei vecchi post alla ricerca della dichiarazione attaccabile. Io di fronte a questo onestamente non mi faccio intimorire, non mi faccio spaventare e vado avanti per la mia strada che sono convinta che sia quella giusta. Tira dritto la più giovane candidata in Parlamento del Partito Democratico. L'ultimo attacco è di ieri e riguarda un suo intervento, peraltro di diverso tempo fa, sul lavoro e giovani, in particolare quando ha detto che il lavoro non deve essere l'unica fonte di sostentamento. Affermazione che non è stata apprezzata soprattutto a nord-est e nella marca dove il lavoro è quasi una religione. Marachelle non si scompone, anzi rincara la dose. Nella mia generazione conosce molto bene il lavoro precario, il lavoro dequalificato e il lavoro sottopagato. In questo momento c'è un problema ed è il circolo vizioso di cui parlavo nel video in cui mi si attacca, che è il fatto che il lavoro povero in questo momento non attiva meccanismi di redistribuzione della ricchezza e meccanismi per cui i giovani possano costruirsi una vita dignitosa, cercarsi una casa, avere una formazione, pensare di costruire una famiglia che sia loro. In questo senso ipotizzare delle forme di sostegno al reddito universali è una delle tante idee che si possono mettere in campo. Quindi la proposta di 15.000 euro come dote ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro o la casa garantita sono solo alcuni esempi che il Partito Democratico vuole concretizzare. Ecco perché per la giovane candidata del Parlamento la polemica è più che strumentale. Allo stesso tempo mi dispiace perché penso che un dibattito molto attuale che riguarda la vita concreta delle persone, come quello del lavoro povero, dello sfruttamento e delle forme di reddito e di sostentamento, sia un qualcosa di molto concreto e molto serio, che meriterebbe un po' di più di una polemichetta strumentale sui social.